Ciao ragazzi e bentornati sul canale dei Wolf Brothers, io sono Matteo e oggi come sempre siamo qua con i risultati del fantacalcio per le datezza la trentesima giornata. Oggi posso andare un pochino più leggero perché finalmente mi hanno tolto i punti e adesso fino a 6 giugno posso vivere la mia vita, poi a 6 giugno mi dovrò levare gli altri due denti dalla parte sinistra e torneranno i cavoli amari, però adesso andiamo a cominciare. E come sempre, bla 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 bla, partiamo dal flash nerazzurro di Ale, stranamente senza pubblicità. Allora, questa giornata il flash nerazzurro affrontava lo Stoke, ovviamente partiamo dagli ospiti. Lo Stoke scendeva in campo con Szczesny che non ha giocato e subentrato Perin, 6 e mezzo, gol subito, 5 e mezzo. Udoji, 5, Carlos Augusto, 6 e mezzo, Singo, 5, Romagnoli, 6 e mezzo, Ammonito, 6, Tonali, non ha giocato e subentrato Mandragora, con 6, Pessina, 6 e mezzo, Koulibaly, non ha giocato e subentrato Dielinski, con 6, Caputo, 5, Origi, 5 e mezzo e infine Dirkid, credo che si pronunci così, 6. Lo Stoke fa 64 punti e non segna neanche un gol. Adesso partiamo ai padroni di casa. Il flash nerazzurro che scendeva in campo con Rui Patricio, 7, Rigore parato e Clean Sheet, 11. Cosa che mi fa molto piacere. Di Marco non ha giocato e subentrato Jorente, con 6 e mezzo, Posh, 7, Ammonito, assist, 7 e mezzo, Di Lorenzo, 6, Maldic, 6, Buonaventura, 6 e mezzo, Barella, 5 e mezzo, Rabiot, 6, Sanabria, 7, gol, gol, gol del pareggio, 10 e mezzo, il Toro, Lautaro Martinez, ormai in piena crisi, 5 e mezzo, E infine Nico Gondales, 6 e mezzo, il flash nerazzurro fa 80 punti e mezzo, segna 3 gol e vince per 3 a 0. Adesso passiamo agli Sfigati Eleven, che questa giornata affrontavano la capolista, il Borussia, Porkmund. Ovviamente partiamo dagli ospiti. Gli Sfigati Eleven! Io lo sapevo, io lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, perché, perché, io, c'è un motivo per cui ho cambiato il portiere a gennaio? C'è un motivo! È tornato! Stai su, maledetto! Ma porca, stai su! Che fai, Ostro? Eh, bravo! È tornato il pelusci, il pupazzo, Terracciano, 6, gol subito, 5. Preciso, preciso, preciso! Se io ho preso Di Gregorio a gennaio, ci sarà un motivo, cattarola! Andiamo avanti! Sernicola, 7, Ammonito e assist, 7 e mezzo. Biraghi, 6 e mezzo. Rodriguez, 6 e mezzo. Spinazzola, 6 e mezzo. Assist, 7 e mezzo. Maldini, 6. E qua si gode! E qua si gode! Lollo, Lorenzo Pellegrini, 7 e gol, 10. Grande capitano, grande Lorenzo, bravissimo! Dai che sei un grande giocatore! E fregati di quei quattro cretini che ti vanno a insultare ogni volta, solo perché non fai l'assist e non segni! Oh, il capitano va sorretto, cazzarola! E che cavolo! E ogni volta... Oh, le partite, lui le tenta gli assist, le tenta i gol! Poi tutto insultarlo! Col Feyenoord, sbaglia il rigore, vai su Instagram! Ultimo post, insulti a manetta! E vai! Però poi, in campionato, che fa il gol? Lorenzo, Pellegrini, tutti belli lì! È facile così, è facile salire sul canale dei vincitori! Andiamo avanti che se no qui rischia di diventare un altro video! Comunque, dai e capitano! Dai e capitano! Dai e capitano! Vlasic, 6 e mezzo Cabral, 7 Gol sul rigore, gol del pareggio, 10 e mezzo Vabbè, Shomurtov ormai... Ce l'avevamo al caso umano Jovic, che adesso non gioca più, ma ci abbiamo al caso umano Shomurtov, che è l'unico giocatore che, nonostante è subentrato, ciappa al 5 e mezzo Vabbè, poi, Jovic non ha giocato è subentrato con Re, con 5 e mezzo Gli sfigati Leven fanno 80 punti e segnano 3 gol! Adesso passiamo! Ai padroni di casa, il Borussia Porkmund, che scendeva in campo con Meret, 6 e Klinsheet, 7 Mario Rui non ha giocato è subentrato Mancini, 5 e ha monito a 4 e mezzo Baschirotto, 6 Teo Hernandez non ha giocato è subentrato Selic, con 6 Fagioli, 5 Anguissa, 6 Wijnaldum, 6 e mezzo Elmas, 5 e mezzo Lukman non ha giocato è subentrato Raspadori, con 5 e mezzo Ozyman, 6 e mezzo e infine Lorienté, 6 il Borussia Porkmund fa 64 punti e mezzo non segna neanche un gol e gli sfigati Leven vincono per 3 a 0 Vai! E si ferma la capolista Grandi ragazzi! Quindi, recap dei risultati della trentesima giornata Come sappiamo, gli sfigati Leven hanno battuto per 3 a 0 il Borussia Porkmund KFC batte 1 a 0 Bilal Real, quindi le due big scazzano le prime in classifica si fermano L'FC Cronoton batte 2 a 0 i realmente scassi il Fleshener Azzurro, come sappiamo, ha battuto 3 a 0 lo Stoke e infine il Burger King batte per 1 a 0 il CSKA Quindi, per effetto di questi risultati la classifica recita Primo, sempre il Borussia Porkmund a 62 Secondo, sempre il Bilal Real a 59 Terzo, KFC a 49 Quarto, il Fleshener Azzurro a 47 Quinto, lo Stoke a 39 Sesto, FC Croton a 38 Settimi, gli sfigati Leven a 35 Ottavo, Burger King a 33 Nonno, il CSKA con 31 E decimi e ultimi, i realmente scarsi Con 21 punti Ok, tu come sempre Leva delle balle Ok ragazzi, anche oggi siamo arrivati alla fine Scusate se è partito un attimo l'argomento pellegrini Però, francamente, a me sono cose che mi fanno veramente incavolare Quando un giocatore fa male, viene insultato La partita dopo fa bene e viene elogiato A me girano le scatole in una maniera incredibile Comunque, finiamola qua Perché sennò vado troppo avanti Quindi, come sempre Spero che il video vi sia piaciuto Se è così, lasciate un like Lasciate un commento qua sotto Se non siete ancora iscritti Iscrivetevi E noi ci vediamo Alla prossima giornata E alla prossima giornata C'è il derby Sfigati Leven contro Fleshener Azzurro Io contro Ale Ciao ragazzi Ci vediamo al derby